Quanta gente c'è già? Lungo il percorso? Qua? Beh, io l'ho visto di più. Sì, sì. Guarda quel fiume là. Oddio, WEG dovrebbe essere strada. WEG dovrebbe essere strada. Sì, guarda quel percorso, Svevone. 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 Io animali. Questo voi pensavo anche sveallo, ad una commenta di fare switch. Non certo? Eh? Come? Eh? złセzione嘛. Anonami quager Esatto Vai dopo Il sale Il sorriso per la stampa Grazie Arrivederci 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 Quello ingollava di tutto Lì c'è un impianto di risalita 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 Corvo reale C'è un impianto di risalita C'è un impianto di risalita C'è un impianto di risalita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.